L'impatto della politica monetaria e della politica fiscale sul prodotto interno lordo. Il Consiglio della Federal Reserve, in collaborazione con economisti di varie università, ha sviluppato un modello econometrico che descrive il comportamento degli aggregati economici negli Stati Uniti. Molti altri economisti hanno fatto un lavoro simile in varie università ed istituzioni finanziarie, ma la nostra discussione è basata essenzialmente sul modello della Federal Reserve, che è stato preparato specificamente per valutare l'impatto delle politiche di stabilizzazione sulla attività economica. È importante sottolineare come premessa che questi modelli econometrici sono sempre in via di ulteriore sviluppo e cambiamento, in modo da incorporare nuove e differenti prospettive relativamente alla realtà economica. Ed inoltre le stime generate dai modelli di come l'economia risponde a cambiamenti nella politica monetaria e fiscale variano poi con le situazioni specifiche dell'attività economica. E così i numeri che successivamente daremo forniscono soltanto un generale sentore di come i modelli simulano le risposte economiche e finanziarie alle politiche di stabilità. ma devono essere considerati dunque soltanto come indicativi. Il modello della Federal Reserve si sviluppa abbastanza attentamente sulle questioni che riguardano l'impatto della politica monetaria sulle diverse categorie di spesa. E daremo qualche dettaglio relativo a queste diverse categorie di spesa verso la fine di questa chiacchierata, ma intanto ci concentriamo su una visione d'insieme dei risultati che il modello econometrico fornisce per la politica monetaria. L'ultima versione del modello della Fed mostra che un aumento dell'1% nell'offerta di moneta alza il livello reale del prodotto interno lordo di circa mezzo punto percentuale dopo un anno. Durante i due anni successivi il prodotto interno lordo continua ad aumentare fino a quando aumenta dello stesso 1% come l'aumento dell'offerta di moneta dopo un totale di tre anni. Altre versioni del modello econometrico della Fed, versioni più antiche, impiegavano un maggior tempo affinché la politica monetaria desse i suoi effetti. In quell'epoca i monetaristi non erano soddisfatti di questi risultati e sospettarono che gli architetti di questo modello in seno alla Federal Reserve magari involontariamente lasciassero fuori qualcosa che potesse variare il risultato dei calcoli al computer. Come risultato di questo dubbio e gli economisti della Federal Reserve Bank di St. Louis svilupparono un modello piuttosto semplice che metteva direttamente in relazione il prodotto con l'offerta di moneta senza passaggi intermedi. Il risultato di questo modello dimostrava anch'esso che si aveva un cambiamento dell'1% nell'offerta di moneta che un cambiamento dell'1% nell'offerta di moneta aumentava il prodotto interno lordo di circa l'1% dopo un anno. E allora il risultato sorprendente è che c'è un apparente consenso sul fatto che la politica monetaria ha un importante impatto sull'attività economica anche all'interno del primo anno. Il problema è che dopo questo periodo iniziale l'impatto dell'espansione monetaria probabilmente è continuo e questo può essere causa di qualche difficoltà per chi guida la Federal Reserve come abbiamo già discusso precedentemente. Parlando adesso della politica fiscale ricordiamo che le discussioni teoriche già viste precedentemente indicano una distinzione piuttosto netta fra la posizione dei monetaristi e i keynesiani sull'efficacia della politica fiscale. I monetaristi affermano che le politiche di spesa o di diminuzione delle tasse semplicemente spostano la spesa privata e riducono la spesa privata lasciando un impatto piuttosto piccolo sul risultato di insieme. I keynesiani d'altra parte argomentano che l'effetto affollamento delle politiche del governo è piuttosto incompleto e ciò implica che la politica fiscale genera molto dell'effetto del tradizionale effetto moltiplicativo sul prodotto interno lordo. Ed è chiaro adesso che questa disputa può essere risolta soltanto ricorrendo all'evidenza empirica e delle sperimentazioni della Federal Reserve con il modello econometrico mostrano che mantenendo costante l'offerta di moneta aumenta un aumento nella spesa del governo dell'1% del prodotto interno lordo aumenta il livello reale del prodotto interno lordo di circa 1% per circa 2 anni e ci vogliono più di 3 anni perché si manifesti l'effetto affollamento in modo da ridurre l'impatto sul prodotto interno lordo a 0. Esperimenti alternativi mostrano che se l'offerta di moneta varia in modo tale che il livello dei tassi di interesse sia mantenuto costante allora l'effetto del moltiplicatore sul prodotto interno lordo è enorme. Anche dopo 4 anni il prodotto interno lordo è 4% più alto che senza la espansione nella spesa da parte del governo. Questi risultati suggeriscono che in accordo al modello della Federal Reserve la politica fiscale ha un moltiplicatore di circa uno senza aiuto dalla politica monetaria ma che un'autorità monetaria accomodante può rendere la politica fiscale anche molto ma molto più efficace. La versione originale del modello monetarista sviluppato alla Federal Reserve Bank di St. Louis era molto più pessimistico circa i risultati della politica fiscale e denunciava un effetto affollamento completo entro il primo anno dopo che era aumentata la spesa del governo e uno dei problemi con questo risultato era che il modello di St. Louis non specificava le categorie di spesa privata che erano that were crowded out by the government expenditure non specificava le categorie di spesa che erano diminuite a causa della spesa del governo dell'incrementata spesa del governo questo agnosticismo del modello St. Louis ha reso i suoi risultati piuttosto sospetti per lo meno in accordo all'idea dei al parere dei keynesiani sembra allora che l'evidenza empirica sulla politica fiscale confermi l'effetto affollamento ma soltanto se l'effetto restrittivo sulla spesa privata soltanto se si concede a questo effetto affollamento a questo effetto restrittivo sulla spesa privata il dovuto tempo per manifestarsi e questo ci porta all'altra questione al ruolo dei tassi di interesse all'interno del quadro dei modelli econometrici e allora guardiamo a come cambiamenti nell'offerta di moneta influenzano il livello dei tassi di interesse e poi cercheremo di capire come nelle specifiche categorie di spesa questo effetto nei tassi di questo effetto dei tassi di interesse si manifesti e vediamo quindi l'impatto della moneta sui tassi di interesse secondo sia i monetaristi che i che i nesiani l'impatto iniziale di liquidità di una politica monetaria espansiva riduce il livello dei tassi di interesse e similmente sia i monetaristi che i che i nesiani riconoscono che le aspettative di inflazione generate da politiche monetarie espansive aumentano vanno ad aumentare i tassi di interesse e la differenza di opinione la differenza chiave di opinione come abbiamo già detto si concentra su quanto tempo ci vuole affinché queste aspettative di inflazione agiscano in modo da opporsi all'iniziale effetto liquidità e allora esistono dei grafici come quello riportato sul post che ci dicono che i livelli dei tassi di interesse di corto termine sono sempre stati piuttosto vicini ai movimenti effettivi del tasso di inflazione così un ampio movimento se guardiamo un'ampia spazzolata di dati vediamo se osserviamo i dati per un periodo di tempo molto lungo vediamo che l'impatto dell'inflazione sul tasso di interesse vediamo che il tasso di interesse e l'inflazione si muovono sostanzialmente in accordo però i grafici mostrano che ci sono importanti intervalli di tempo in cui i movimenti sono indipendenti nei tassi di interesse dall'inflazione e naturalmente bisogna identificare separatamente il ruolo che ha la politica monetaria in questi periodi in cui i tassi di interesse si separano dall'inflazione la maggior parte dei modelli econometrici incluso quello della fed ci dicono che i tassi di interesse diminuiscono e rimangono al di sotto del loro livello originale per circa sei mesi da sei mesi fino a un anno dopo una politica monetaria espansiva e che poi tornano al loro livello originario per un periodo simile e che diciamo così come i tassi di interesse sono al di sotto e rimangono al di sotto del livello originale per un periodo di tempo fra sei mesi ed un anno dopo una politica espansiva così sono al di sopra del livello originario per un periodo all'incirca simile dopo un intervento restrittivo dopo un anno comunque l'effetto liquidità è rovesciato e i tassi di interesse immuomono nella direzione opposta e in contrasto a quanto ora detto ci sono alcuni modelli monetaristi che mostrano come il tasso il tasso di breve termine sui treasury bill ritorna al suo livello originale va anche oltre il suo livello originale entro tre mesi da una politica monetaria espansiva e deve essere anche sottolineato che la risposta delle aspettative di inflazione dipende in modo cruciale dallo stato iniziale in cui versa l'economia a livelli dell'attività economica che sono molto vicini al pieno impiego o quando risparmiatori ed investitori si preoccupano soprattutto dell'inflazione allora una risalita nelle aspettative di inflazione legata a una politica monetaria espansiva può essere anche più veloce di quanto abbiamo detto e così mentre i modelli formali indicano un aggiustamento relativamente lento in quanto sono basati su esperienze medie storiche ogni evento specifico può avere in definitiva una sensitività una sensibilità ben maggiore della media se le condizioni specifiche sono mature e allora a questo punto è utile andare un gradino avanti nell'esaminare il comportamento dei tassi di interesse i tassi di interesse dovrebbero tagliare alcune spese e i tassi i tassi di interesse che salgono dovrebbero tagliare dovrebbero essere restrittivi e i tassi di interesse che diminuiscono dovrebbero consentire un'espansione della spesa vediamo le diverse categorie di spesa vediamo quali sono più sensibili ai movimenti nei tassi di interesse in questo modo possiamo isolare i canali attraverso i quali la politica monetaria opera ed identificare le categorie della spesa privata che sono magari più probabili di essere di subire l'effetto crowding out a causa della politica fiscale dopo la politica fiscale espansiva diciamo che ci si potrebbe aspettare che i tassi di interesse e l'investimento e la spesa per investimento muovano in direzioni opposte un aumento nei tassi di interesse per esempio dovrebbe diminuire la spesa di investimento in impianti e apparecchiature se il costo per prendere in prestito il danaro aumenta così dice la nostra teoria le aziende dovrebbero presumibilmente essere voler spendere di meno in nuovi investimenti questo risultato empirico si ricava dall'evidenza empirica storicamente si ricava che i tassi di interesse e gli investimenti quasi sempre si muovono nella stessa direzione questo è sorprendente ma come in tutti i casi in cui i fatti come nella maggior parte dei casi in cui i fatti contraddicono la teoria uno di questi due elementi deve cedere terreno e normalmente sono i fatti e appunto nelle serie storiche nelle situazioni che vengono registrate storicamente molte cose accadono simultaneamente per cui esistono diversi fili di causa ed effetto da considerare la spesa per investimenti è influenzata da una serie di fattori oltre al tasso di interesse ad esempio le aspettative di vendita i cambiamenti nella profittabilità prevista le pressioni della concorrenza il grado il grado di utilizzo degli impianti le aspettative relative all'inflazione e parecchie altre un aumento quindi nei tassi di interesse può limitare l'investimento eppure l'investimento può di fatto aumentare assieme al tasso di interesse se un numero considerevole di questi altri fattori che abbiamo menzionato si sposta sufficientemente in modo da controbilanciare l'effetto dei tassi di interesse i metodi econometrici come quelli usati dalla Federal Reserve permettono di capire gli effetti delle singole variabili e possiamo esaminare l'impatto dei tassi di interesse sull'investimento tenendo tutte le altre variabili costanti e allora il modello della Fed mostra ad esempio che un aumento dell'1% diciamo dall'8 al 9% nel tasso di interesse delle obbligazioni abbassa la spesa per investimento in nuovi impianti ed apparecchiature di circa il 5% dopo tre anni ma quasi tutto questo effetto avviene nell'ultimo anno in questo esempio il ritardo degli effetti legati alla variazione del tasso di interesse è importante è notevole la maggior parte delle decisioni di investimento non sono fatte oggi ed eseguite domani le decisioni che riguardano le nuove apparecchiature le nuove costruzioni sono normalmente fatte con molto anticipo e così un aumento nei tassi di interesse non si traduce non va ad influenzare prontamente l'investimento in impianti e apparecchiature va ad influenzare le decisioni attuali le decisioni correnti che poi saranno realizzate mesi ed anni dopo l'impatto della politica monetaria si sente più prontamente in modo più efficace sulle spese per le costruzioni residenziali in modo particolare un aumento dell'1% nel tasso di interesse abbassa la spesa sulle costruzioni di circa il 9% entro un anno parte di questo effetto sulle costruzioni avviene attraverso il razionamento del credito da parte delle istituzioni finanziarie che sono preposte al finanziamento dei mutui ed infatti la disponibilità di credito è enfatizzata dai keynesiani come un canale molto importante attraverso cui la politica monetaria va ad influire sulla spesa ma questo caso specifico di razionamento del credito per i mutui è meno importante oggi che le istituzioni finanziarie sono meno specializzate le le spese per nuove costruzioni sia dello Stato che dei governi locali sono molto sensibili sono anch'esse molto sensibili alle decisioni delle autorità monetarie e i collocamenti ad esempio dei bond municipali sono spesso ridotti rimandati o cancellati durante i periodi di tassi di interesse alti o crescenti molti molti governi municipali hanno dei tassi di interesse limite autoimposti che e quindi si sottraggono a nuovi collocamenti quando i tassi eccedono questi limiti l'ultimo item importante relativamente alla politica monetaria è la spesa per il consumo in questo caso il modello della federal reserve include l'effetto ricchezza studiato dai keynesiani e valuta in questo modo l'impatto dei tassi di interesse sulla spesa in particolar modo un tasso che diminuisce aumenta il valore delle azioni dei bond e questo aumenta il livello della spesa dei consumatori quindi l'importanza dell'effetto ricchezza sull'impatto complessivo della politica monetaria è importante circa un quarto dell'impatto della politica monetaria sul prodotto interno lordo dopo un anno deriva proprio dagli effetti dei cambiamenti nella ricchezza e questo va a influenzare appunto il consumo e questo è più di quattro volte la risposta nella spesa per investimenti e circa uguale all'effetto della politica monetaria sulle nuove costruzioni diciamo diciamo che forse il messaggio più importante da tutte queste osservazioni di carattere empirico su dati storici è che c'è un impatto significativo della politica monetaria sulla spesa mentre ad una prima occhiata questo potrebbe sembrare che sostenga il ruolo della federal reserve nei suoi tentativi di manovre anticicliche c'è anche da dire che permane il rischio di effetti potenzialmente destabilizzanti di cui abbiamo già parlato e che possono essere anche molto pericolosi il modello della federal reserve suggerisce che la politica monetaria è una forza importante con cui fare i conti ma piuttosto complessa per essere utilizzata per un delicato aggiustamento dell'attività economica